Buonasera e bentrovati. Una giornata intensa dal punto di vista politico e istituzionale per diversi motivi. Cominciamo dalle infrastrutture, dalla Vergiate Besozzo, come sempre noi del Varesotto l'abbiamo chiamata. In realtà è la statale 629, su cui sono in fase di completamento tre nuove rotatorie. Il territorio ne vorrebbe altre cinque. Sul posto il ministro Matteo Salvini, che poco dopo nella sede della provincia ha incontrato tanti sindaci e il collega di governo, il ministro Giancarlo Giorgetti. Vi raccontiamo tutto. E qui a Villarecalcati, sede della provincia di Varese, sta per concludersi la seconda tappa di un giorno molto importante per il territorio, sul fronte delle infrastrutture, alla presenza di due ministri dell'attuale governo, di tanti esponenti politici, molti tecnici e soprattutto tanti sindaci. In cabina regia c'è il presidente della provincia, Marco Margarini. Alcune delle infrastrutture più attese del territorio sono sul tavolo, a cominciare dalle rotonde in fase di realizzazione sulla statale 629, la cosiddetta Vergiate Besozzo. E proprio lì si è svolta la prima tappa di questa importante giornata, con il ministro delle infrastrutture Salvini e molti altri partecipanti. Le rotonde già in fase di realizzazione sono tre, a Mercallo, Vergiate, Malgesso, un tocca sana per il traffico e per la sicurezza, grazie all'eliminazione dei semafori, cui Salvini vorrebbe dire addio, insieme agli autovelox. Adesso sono ministro, ho un figlio con la patente, una figlia che l'avrà, ci tengo alla sicurezza e alla salute, quindi gli autovelox nei punti pericolosi sono importanti. Gli autovelox su stradoni larghi per fare cassa, no. Per i sindaci della zona, sul posto insieme ad altri colleghi, esponenti politici, governatore Attilio Fontana, si tratta di opere importanti. Quanto attese? Era veramente, come dire, pericolosa, sono successi tanti incidenti, purtroppo anche qualche morto, e quindi noi ci aspettiamo che la viabilità migliore sia più fruibile per il turismo e per tutto quanto. Di rotonde sulla Vergiate Besozzo dovrebbero sorgere altre cinque, per un totale di otto. Senz'altro noi dal punto di vista tecnico sposiamo l'iniziativa di ampliare con altre rotatorie e sostituire gli incroci semaforizzati e puntiamo a trovare i finanziamenti. A seguire, come detto, le slide, le componenti tecniche, le tabelle, i diagrammi, tutto ciò che mette nero su bianco l'importanza delle infrastrutture più attese. C'è una grande incognita, cioè tanti sindaci da altre parti del territorio sono venuti qui al cospetto dei ministri Salvini e Giorgetti per battere cassa, per chiedere che anche le loro infrastrutture vengano garantite. Non sarà possibile accontentare tutti, evidentemente, ma se c'è un punto politico che indubbiamente è stato affermato è quello di una provincia di Varese che, nonostante sia incoerente di secondo livello, è tornata ad essere cabina regia di primo piano. Fare delle scelte insieme al territorio, quindi insieme ai sindaci, e capire quali sono le strade di maggiore importanza strategica per la provincia, questa è una scelta che non può partire dal Presidente, ma deve partire dai territori. Ma dicevamo che dal punto di vista politico è stato molto intenso questo giorno ed è stato anche piuttosto litigioso. Si è cominciato, infatti, di prima mattina con una conferenza in cui gli esponenti del Partito Democratico hanno accusato il Governo di aver tagliato i fondi per la sanità al punto da compromettere il progetto dell'ospedale unico. In prima linea c'erano il senatore Alfieri e il consigliere regionale Astuti, li abbiamo intervistati. Il Governo chiude l'ospedale unico di Buster Sizio e Gallarate ancora prima di costruirlo. Battuta amara, quella di due pesi massimi del PD Varesino, Alessandro Alfieri e Samuele Astuti, reduci da una conferenza Stato-Regioni che, dicono, rischia di mettere una pietra sopra l'ambizioso progetto della sanità lombarda. Noi abbiamo chiesto più volte di poter rivedere e costruire insieme un progetto. La Lega, questa maggioranza, non ha voluto ascoltarci e adesso scopriamo che non ci sono più i fondi. A cascata, attacca il senatore Dem, i tagli decisi dal Governo di centrodestra comporteranno l'impoverimento della sanità locale. Qualche numero? A livello nazionale le case di comunità saranno 400 in meno del previsto, mentre gli ospedali di comunità vedrebbero annullati i 96 interventi. Fitto e Meloni decidono di tagliare un miliardo e 200 milioni sulla sanità, li chiamano rimodulazioni del PNRR, in realtà si chiamano tagli. E' come il gioco della sedia che si faceva da bambini, alla fine uno rimane in piedi. Quindi questa rimodulazione, alla fine c'è un taglio finale. Il taglio finale si scarica sulla Lombardia e dicono usate i fondi dell'edilizia sanitaria. Peccato che i fondi dell'edilizia sanitaria erano già stati assegnati. Guarda caso in Lombardia all'ospedale unico di Busto e Gallarate, che oggi rischia di non partire perché non ha soldi. Nel frattempo quei due ospedali rischiano di perdere professionalità, specialità, di non funzionare, di non dare servizi ai cittadini. Questo è il modo di gestire della destra, della sanità, che è uno dei temi più delicati che interessa i cittadini. Poi a stretto giro è arrivata la replica, a distanza, anche piuttosto dura e rabbiosa, di Stefano Candiani, onorevole della Lega, che dice «Non è vero quel che sostiene il PD, i soldi ci sono, il progetto va avanti». Tutte balle, nessun taglio, così Stefano Candiani, deputato della Lega, risponde alle dure dichiarazioni degli esponenti PD, Alfieri Astuti, i quali accusano il governo di aver inflitto alla sanità nazionale tagli, che a cascata rischiano di compromettere la realizzazione dell'ospedale unico di Busto Arsizio e Gallarate. Il governo, continua Candiani, non ha fatto altro che prendere e rimettere nella collocazione originaria dei progetti che sono stati buttati dentro nel 2020 dal governo di allora, li ha messi a bilancio rifinanziandoli con fondi nazionali, evitando così di rimanere incastrati nei termini molto severi e stretti del PNRR. Così anche il ministro Raffaele Fitto di Fratelli d'Italia, nel suo intervento alla Camera di ieri, «Nessun taglio, ma solo uno spostamento di risorse». Alfieri e i soci dovrebbero invece giustificare l'imbroglio iniziale di aver fatto passare per nuovi progetti vecchi e impantanati da anni. E apriamo una parentesi dedicata alla nostra professione, quella di giornalisti addetti all'informazione, più in generale a una comunicazione che ormai con gli strumenti di oggi può davvero raggiungere chiunque, ovunque, ma potenzialmente può anche partire da chiunque. Qual è il nostro ruolo di giornalisti, soprattutto in rapporto alla intelligenza artificiale e a ciò che può apportare? Tutti gli argomenti toccati ieri in una bella serata del Rotary Club col presidente dell'Ordine Lombardo. Un conto è la professione, un altro è lo strumento. La prima, nonostante i cambiamenti tecnologici, deve mantenere la barra dritta sulla propria missione, che consiste nel dare notizie, raccontare i fatti, sostenere la verità. Così Riccardo Sorrentino, presidente dell'Ordine dei giornalisti Lombardo, ospite del collega Roberto Troian, attuale timoniere del Rotary Club Varese, riafferma il ruolo dell'informazione. Dobbiamo ristabilire il rapporto con i fatti, non semplicemente le notizie, che sono la base del nostro lavoro, per carità, nella maniera più assoluta, ma proprio i fatti, la realtà dei fatti, la ricostruzione della realtà, che è un compito estremamente difficile, anche dovuto conto della rapidità del nostro lavoro e ai noi, dell'esiguità delle risorse economiche di questo periodo. Però questo è il lavoro che dobbiamo fare. E inoltre dobbiamo avere sempre maggiori competenze. C'è una domanda inespressa, che non si vede nelle statistiche dei siti, su quali articoli vengono letti o non vengono letti. C'è una domanda da parte di tutta la società di traduzione culturale. Cioè questo deve essere il nostro compito. I social hanno reso la comunicazione più contratta e sincopata, tuttavia, aggiunge, il contenuto conta oggi come ieri. È evidente che una delle cose che dobbiamo dire al lettore, nelle nostre prime righe, è perché devono spendere 3-4 minuti del loro tempo per leggere il nostro articolo. Questo ormai è diventato, lo vediamo, una necessità. Quando ci riusciamo, però, i nostri lettori sono molto attenti. Ci sono dei podcast che durano un'ora. Quando si riesce a catturare l'attenzione del lettore, spesso lo si fa proprio con i fatti, quindi il lettore è in grado di seguire. E l'intelligenza artificiale? Benvenga l'innovazione, chiosa Sorrentino. Agevolare tecnologicamente il lavoro di redazione significa riportare i giornalisti a contatto con la realtà. Ci sono giornalisti che lavorano, lavorano straordinariamente bene nel trovare le notizie a tambur battente dell'immediato. E questo dobbiamo continuare a farlo. E probabilmente l'intelligenza artificiale, per esempio, li aiuterà, perché ci sono giornali in America che hanno liberato il lavoro dei giornalisti e li hanno rispediti nelle strade. Poi c'è un altro lavoro, che è un lavoro di lungo periodo, un lavoro di inchiesta, un lavoro che può durare settimane. Probabilmente le redazioni del futuro saranno organizzate su due orizzonti temporali diversi. Una parte è la redazione che si occuperà delle notizie immediate e un'altra, in stretta comunicazione evidentemente con la prima, che invece si occuperà di approfondimenti strettamente giornalistici, cioè che si basano sui fatti. Come sapete, perché ve lo abbiamo annunciato ieri, lunedì mattina si svolgerà la celebrazione organizzata da Varese per l'Italia, per l'unità nazionale, e nel contempo sarà consegnato il prestigioso premio Valcavi a Renzo Oldani, un personaggio legato al mondo dello sport, al mondo sociale, insomma un varesino, che vi raccontiamo così. Chi affonda le radici nel territorio percorre un pezzo di strada accanto a coloro che vivono una quotidianità analoga, anche se in altri ambiti. E così, da circa 25 anni, mi capita di solcare le stesse strade di Renzo Oldani, di incontrarlo agli eventi sportivi che, come presidente della Binda, organizza in maniera energica e indefessa, di condividere con lui vizi e virtù di un impegno che si affianca alla sua attività professionale, in una sorta di audace gincana, tra rischi, opportunità, fatica e gratificazione, cadute, traguardi, vittorie, gioie ed elusioni. Ma ciò che fa onore a Renzo Oldani e che rende meritatissimo il premio Valcavi è prima di tutto l'umiltà, la genuinità, la sensibilità che è capace di esprimere nei modi e confermare nei fatti. Perché si può essere un signore anche in volata, basta unire alla voglia di vincere la capacità di tendere una mano a chi resta indietro. Voltiamo pagina, cambiamo zona, andiamo a Gallarate, con qualche notizia di servizio importante sul fronte della raccolta rifiuti, segnatamente della raccolta del verde che cambia dal 25 marzo. Ecco le novità. La giunta Cassani ha introdotto la possibilità per i cittadini di farsi ritirare il verde domestico a domicilio. Un nuovo servizio nell'ambito della raccolta dei rifiuti a Gallarate che parte proprio da questo mese, in particolare dal 25 marzo. Potranno essere ritirati i cassonetti carrellati nei quali riporre il verde del prato, il verde domestico. Sul sito del comune nei prossimi giorni verranno date tutte le maggiori informazioni, ci saranno tutti i dettagli. Riteniamo che sia un altro tassello del nostro programma elettorale e un servizio importante per le esigenze dei gallaratesi che potranno evitare di portare alla piattaforma il verde ma potranno vederselo ritirato al di fuori della propria abitazione. Il servizio di ritiro a domicilio del rifiuto verde, anche questo operato dalla società M Linea Ambiente, verrà attivato solo su richiesta. È previsto un costo di 40 euro a fronte della consegna di un cassonetto carrellato e di 18 ritiri annuali. Partendo dal mese di marzo con un ritiro poi due ritiri mensili fino ad arrivare al mese di novembre. Il calendario dei ritiri, conclude l'assessore Picchetti, verrà organizzato in base alle richieste pervenute e comunicato nelle prossime settimane. Volge al termine il ricco, ambizioso e riuscito calendario di Filosofarti. A Varese in Rosa la collega Chiara Milani ne parla con l'organizzatrice e direttrice Cristina Boracchi. Rush finale della ventesima edizione di Filosofarti, il Festival di Filosofia è nato vent'anni fa a Gallarate e ora diffuso sul territorio. Tanto che gli ultimi appuntamenti si tengono soprattutto a Varese dintorni. Dopo la tavola rotonda di venerdì 15 marzo sulle dimensioni del suono al Salone Estense e la lezione magistrale di Lorenzo Cappannare a Besnate, sabato 16 l'evento La Casa degli Artisti a Castiglione Olona e i più tardi riproduzione acusmatica e premiera audiovisiva di nuovo in via Sacco a Barese. Infine domenica 17 altra riproduzione acusmatica Palazzo Estense seguita da una conferenza e tavola rotonda finale, in questo caso a Bustarsizio, al centro giovanile Stoà. L'ideatrice del festival Cristina Boracchi sarà protagonista della puntata di Vivere in Rosa in onda venerdì alle 20.10 e domenica alle 20.45 sul canale 88. Il giorno d'oggi si parla sempre più di tecnologia, di informatica, di intelligenza artificiale. Insomma, la filosofia è un'intelligenza naturale. Come si pone in questo scenario? Ma in qualsiasi realtà che viviamo e che sperimentiamo, la riflessione sul perché e su che cosa determina questo cambiamento importante, quello della tecnologia, di cui abbiamo peraltro parlato in questo festival, perché anche l'intelligenza artificiale è visibile e invisibile nello stesso tempo, diceva, ogni cambiamento, ogni momento epocale comporta una riflessione. Sarebbe assurdo pensare che l'uomo non si ponesse dei perché, se li pone fin dalla nascita, fin dai primi anni di vita, il perché di ciò che vive. E porsi il perché significa anche porsi dei fini, degli scopi, valutare eticamente quello che si vive. Un corso come il nostro, un percorso di tipo filosofico, e non solo, perché filosofarti declina la filosofia con le arti, ha proprio questo scopo. Originariamente del Basso Varesotto è diventato ormai un appuntamento più che provinciale e territoriale. Parliamo del Festival Fotografico organizzato dall'archivio che fa capo Claudio Argentiero. Ecco i dettagli. 20 mostre affiancate da incontri, conferenze, proiezioni, libri e workshop. Questo è il programma della dodicesima edizione del Festival Fotografico Europeo, presentato ufficialmente oggi a Palazzo Ciccogno di Busto, alla presenza di Claudio Argentiero, curatore anima della Rassegna, e dell'assessore alla cultura Manuela Maffioli. La manifestazione organizzata da Afio Archivio Fotografico Italiano si aprirà il 16 marzo e continuerà fino al 28 aprile. Cinque comuni coinvolti, il Festival parte a Busto, ma in realtà poi ci apriamo il territorio perché è una delle finalità, in quanto vogliamo anche far scoprire i luoghi nel nostro territorio, o limitrofi diciamo alla città di Busto, quindi Castellanza, Legnano, Oggi a Teolone, Cairate. Tutte le mostre sono gratuite, ingresso libero, e ci sarà la possibilità di scoprire una fotografia a 360 gradi. Il tema non esiste per una questione di scelte, perché vogliamo appunto che ognuno trovi i propri spazi, anche mentali, e per vedere queste foto, che in parte sono poetiche, in altri casi documentano dei fatti del passato e del presente, portandoci diciamo un giornalismo e una fotografia autoriale che ci aiuterà a riflettere sulla nostra società. E sempre sul fronte culturale, ventesima edizione del concorso di poesia Sole d'autunno, organizzato a Bustarsizio, ecco i dettagli. Il tema della ventesima edizione è silenzio e parola, apparentemente molto difficile, ma basta soffermarsi un attimo e riflettere sull'importanza di questi due elementi, silenzio e parola, dall'uno nasce l'altro. Ultimi giorni per partecipare al concorso di poesia promosso dal Teatro Fratello Sole a Bustarsizio. Da vent'anni proponiamo questo concorso, che si chiama Sole d'autunno, proprio perché in autunno si semina, e quindi noi speriamo di aver seminato e di continuare a seminare. È un concorso a tema, ogni anno proponiamo un tema che è vincolante, in linea di massima, per i ragazzi, quindi delle medie, e gli adulti. È un libero invece per i bambini, perché è già molto, se riescono a partecipare, su un argomento che loro vogliono scegliere. Arrivano anche di classi intere, perché c'è la sezione per i bambini, che è sempre molto partecipata, e arrivano da tutta Italia. Il termine ultimo è il 18 marzo, la premiazione sarà presso il Teatro Fratello Sole di Bustarsizio il 25 maggio, alle 4 del pomeriggio. E ora la pallacanestro Varese, riduce da una convincente vittoria di rilievo europeo, dovrà tuffarsi a capofitto nuovamente nel campionato. Vincere per sognare i play-off. È questa la missione della pallacanestro Varese, che domenica 17 marzo, alle ore 16.30, scenderà sul parquet del Palabigi di Reggio Emilia, per sfidare la Uno TES. Una sfida sicuramente non facile per i biancorossi bosini, che, però, quest'anno hanno già dimostrato di sapere come far male ai reggiani. Basti guardare alla gara d'andata, quando Maignone e Soci giocarono una delle più belle partite di questo campionato, vincendo 116 a 93, dominando in lungo e in largo. La pallacanestro Reggiana, però, tra le mura amiche, è tutt'altra realtà e a Varese servirà una grandissima partita per portare a casa due punti che l'avvicinerebbero ai primi otto posti della classifica. Prima parlavamo di Rotary Club per motivi culturali, adesso torniamo a parlarne per motivi sportivi e sociali. In questo servizio. Due lotterie, il primo torneo benefico di Pado l'ha aperto anche ai non soci. In calendario sabato 23 marzo alleo lo sport city di Bustarsizio dalla mattina fino al tardo pomeriggio con la premiazione dei vincitori. Anche Rotary Club La Malpensa mette il suo mattoncino per la costruzione della Casa del Fiore. Sogno di lunga data dell'associazione Bianca Garavaglia che vuole realizzare all'ESO una casa per le vacanze dei bambini malati di tumore e le loro famiglie. Siamo entusiasti per questa iniziativa, soprattutto anche perché questa iniziativa sarà sul lago maggiore che è il luogo preferito dai bustocchi e dai valesini come residenza estiva. Noi proprio siamo garanti e saremo sempre vicini nella costruzione di questa casa. ma soprattutto anche perché oltre ad essere interessata l'associazione Bianca Garavaglia c'è anche l'Istituto Tumori sono enti che hanno già una fama di gestione di fondi e di donazioni per cui noi però saremo sempre lì a fianco loro. Può anche essere che ci sarà ancora qualche altra iniziativa sempre dei Rotari a questo fine. Programmazione serale direte 55 tra l'altro oggi ricorre la giornata dedicata a riflessione e lotta contro i disturbi alimentari e proprio di quello ci occupiamo con la dottoressa Erika Minazzi ospite del nostro post TG. Alle 21 c'è un film I perversi alle 23.10 la musica Gatto Pancieri con il palco è tuo alle 23.30 una famiglia quasi perfetta. È tutto vi auguro una buona serata arrivederci. Grazie. Grazie.